Io sono sempre stato un sostenitore che le polizie non possono essere troppe e quando Cottarelli ha fatto l'analisi della spesa pubblica italiana ha detto che cinque polizie sono troppe. Mi si è allargato il cuore. Perché direte che sono troppe? Perché quando io sono al caffè trentino seduto per prendermi il caffè e mi rilasso a un certo momento vedo passare la gazzella dei carabinieri. Passa la gazzella con dentro due persone molto rilassate quali guardano in giro per vedere se ci sono cose che non vanno e passano. Da lì a cinque minuti che cosa può passare? La gazzella della polizia. Anche quelli che guardano molto rilassati sempre e guardano in giro. Quando non passa anche la gazzella della guardia di finanza? Allora mi sono domandato ma come? Chi si mette d'accordo? O passa i carabinieri o passa la guardia di finanza o passa la polizia. Ma c'è di peggio. Via Segantini quest'estate zeppa che non vi dico perché c'era veramente piena. Chi si arrancava in mezzo a tutto questo flusso di persone? La gazzella dei carabinieri e poi la gazzella della polizia. Ma non potevi passare a piedi no? Era proprio necessario passare in macchina? Che la gente si spostava? Allora ci vorrebbe, al giorno d'oggi poi con la tecnologia che c'è oggi, ma cosa continui a consumare benzina? E dici non abbiamo la benzina sufficiente. Ma dove la benzina? Io prendo una gazzella, la metto là. Se voi parlate col capitano e i carabinieri se vi capita, hanno tutte le giustificazioni dell'universo perché si bisogna controllare il territorio, poi la camorra, la zona Napoli, quella non la controlla, che poi Sicilia che sia la camorra, quello che ne importa il tubo. Però qui da noi la gazzella deve girare. Sarà. Ma la cosa che più mi ha mandato in bestia è che guardando delle sommosse, sommosse diciamo quando ci sono dei disordini a Roma per le varie manifestazioni, che cosa ti scopro? Che oltre al reparto antisommossa dei carabinieri, che è anche il reparto antisommossa della polizia, ma qual è il terzo? La guardia di finanza. C'è il reparto antisommossa della guardia di finanza, al che se permettete mi sono girate, ho detto ma come? C'è chi che vuole vedere qui che non può avere le tasse, le vuole spendere i soldi? Ma non che sai i carabinieri e i cosi? Deghe qualcosa di poi i carabinieri, ma cosa ne ha dargli i soldi a soccorso di finanza? Vado a Pravi, un pomeriggio, faccio due passi e vedo che è lì un gruppo di persone con su scritto soccorso alpino, poi si gira e dice guardia di finanza. Come guardia di finanza? Soccorso alpino e guardia di finanza? Ma cosa che c'entra la guardia di finanza con soccorso alpino? Caso alla forestale? Caso, ma lo so. Ma voi che siete popolo e cittadini, perché non facciamo una class action, come dicevo con l'inglese, una sommossa di popolo? Mi piacerebbe avere di fronte Panissa, Fravezzi e gli altri onorevoli trentini per chiedergli quante volte hanno preso la briga di via Greggio sul ministro dell'interno. Come mai spendete i soldi o permettete alla guardia di finanza di fare i reparti anti sommossa? Ma dove? Io veramente sono cose. Oh, chi vi parla ha una tenera età e quindi il gampiede è pronto per andare ad un'altra banda, può darsi che mi sbagli. Mi piacerebbe che chi mi ascolta mi desse anche una soddisfazione di dire Tamanini te sei un cretino, non te capisci niente, oppure Tamanini ha ragione, la prima volta che vedo Panizza, che vedo Fravezzi, che vedo un onorevole, gli dico queste cose, non vanno. I reparti, antisommostri dalla guardia di finanza, non vanno bene. Chiuso, ne parliamo la prossima volta.